Aveva rapinato un uomo di 72 anni all'esterno dell'ospedale San Donato mentre stava passeggiando con la moglie. Lo aveva spinto e malmenato portandogli via il portafoglio di tasca. Adesso i carabinieri lo hanno arrestato. La vittima si trovava nei pressi del parcheggio di via Lasky. La coppia di coniugi seppur sotto shock dopo l'accaduto ha immediatamente chiesto aiuto ai passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. La centrale operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie che hanno avviato le ricerche del sospetto. Grazie alle precise descrizioni fornite i militari sono riusciti ad individuare l'autore della rapina nel giro di pochi minuti. L'uomo straniero irregolare già noto alle forze dell'ordine è stato individuato in via Masaccio all'ingresso del parco del Pionta. Durante le fasi di identificazione, prima ha tentato la fuga a piedi, poi una volta raggiunto dai militari che lo hanno rincorso ha opposto resistenza. Al momento dell'arresto si era già disfatto della refurtiva, adesso dovrà rispondere del reato di rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. Le indagini intanto proseguono per accertare se l'arrestato possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti recentemente nella stessa zona.